Benvenuti in questo nuovo video da me e da Gabriele. Oggi ci troviamo in una location diversa dal solito. Siamo in treno e stiamo andando su Montecavo e scenderemo ad Albano Laziale e poi facciamo una bella talita per il monte. Bella tosta. E niente, ci vediamo dopo. Bella. Ciao, ciao. 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 Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.